Che cos'è un ricordo? Lacrime nella pioggia? Così essenziali e materiali da essere assimilabili all'elemento più elementare che conosciamo, l'acqua? Oppure trascendono la semplice fisica, la materia, il corpo e hanno a che fare con lo spirito e l'anima? Queste sono alcune delle questioni sollevate da quel piccolo grande capolavoro intitolato Eternal Sunshine of the Spotless Mind, diretto da Michel Gondry e scritto da Charlie Kaufman, quindi non posso che darvi il benvenuto a Filosofar So Good. Mi perdonerete, non riuscirò a chiamare questo film con il titolo italiano che gli è stato affibbiato, quindi lo chiamerò così con il suo titolo originale che è meravigliosamente poetico, proprio come lo è il film. Joel e Clementine vogliono dimenticarsi e quindi si affidano alla Lacuna, una azienda che promette di cancellare, dopo aver selezionato dei ricordi ben precisi, ogni memoria dell'evento che vogliamo eliminare dalla nostra memoria. Anche se inizialmente sembra andare tutto bene, come sappiamo in ogni racconto di questo tipo c'è un rapporto di minoranza e quindi l'esperimento con Joel e Clementine non va esattamente come previsto. Entrambi scopriranno presto che non basta selezionare neuroni ed eliminare strade cerebrali per cancellare dalla testa qualcuno che si è amato. Gli innamorati potrebbero chiamarlo destino, Henri Bergson lo chiama durata. Nel grande saggio Materia e Memoria, Bergson cerca di mettersi in quel dibattito insanguinato della filosofia moderna che non ha mai fatto prigionieri chiamato rapporto mente-corpo. Da un lato gli idealisti sfrenati come Berkeley, secondo i quali la realtà è un prodotto mentale e non esiste nessuna correlazione fra la fisica del cervello e la produzione delle idee, delle immagini e delle rappresentazioni del mondo. Dall'altro lato i materialisti fisicalisti che riducono ogni singolo evento di coscienza a processi chimici, fisici, elettrici insiti nel cervello dicendo che non v'è niente di più, niente di spirituale, niente di divino nella mente umana. Pensate che questo dibattito così acceso sia aperto ancora ai tempi di Cartesio, quando si cercò di porre un paletto scientifico e irriducibile sulla prova dell'esistenza della realtà esteriore alla mia coscienza. Ma oggi le questioni sono ancora estremamente aperte, tanto nella filosofia quanto nella letteratura, e vi consiglio questo mio video sulla filosofia di Ghost in the Shell per approfondire un po' il discorso. Bergson cerca di portare aria nuova al dibattito con Materia e Memoria, in cui afferma che il rapporto fra mente-corpo è un po' diverso rispetto a come ce lo siamo finora immaginati. La soggettività delle qualità sensibili consiste soprattutto in una specie di contrazione del reale, operata dalla nostra memoria. La memoria, sotto queste due forme, in quanto ricopre di uno strato di ricordi un fondo di percezione immediata e in quanto contrae anche una molteplicità di momenti, costituisce il principale apporto della coscienza individuale nella percezione, ovvero il lato soggettivo della nostra conoscenza delle cose. Se da un lato gli idealisti dicono che il ricordo, l'immagine, la rappresentazione hanno una vita propria, al di là della quale non esiste una realtà finita e oggettiva, dall'altro lato i fisicalisti affermano che il ricordo è un prodotto cerebrale, assimilabile a puri movimenti chimici, fisici ed elettrici del nostro cervello. Bergson al contrario afferma che gli idealisti hanno torto perché una realtà esteriore alle nostre percezioni è inevitabile sia data, dall'altro lato hanno torto anche i fisicalisti perché è inevitabile poter pensare che le rappresentazioni della nostra mente abbiano una vita che va al di là della semplice chimica e fisica perché altrimenti non riusciremmo a spiegarci una montagna di fenomeni come per esempio il nostro percepirci come coscienza unitaria. In Eternal Sunshine of the Spotless Mind infatti non si riesce a capire perché nonostante i ricordi siano stati cancellati, nonostante i neuroni siano stati selezionati, nonostante le strade cerebrali siano state rotte, ancora persiste il ricordo di Clementine nella testa di Joel e di Joel nella testa di Clementine e non è un caso che loro si reincontrino dopo essersi divisi, separati e dimenticati. E ripeto, un innamorato, un romantico potrebbe chiamarlo destino, invece Bergson lo chiamerebbe durata. Perché se la scienza non può che prendere l'oggetto neurale e studiare le interazioni chimiche e fisiche che esso ha con gli altri oggetti neurali che formano i ricordi, dall'altro lato l'esperienza umana ci porta sempre a essere tutto il nostro passato compresso nell'istante delle nostre decisioni. La durata è l'irriducibilità del mio momento presente a un istante scientificamente discernibile dal resto della mia esperienza. Il ricordo nella mente umana non è soltanto chimica e fisica, è anche un atto di unificazione di tutto il mio passato nel momento in cui sto producendo ulteriore esperienza. E questa è la durata. Nel momento in cui gli addetti della lacuna INC stanno procedendo con la cancellazione dei ricordi di Joel, lui sta dormendo, ma in quel momento, mentre i suoi ricordi vengono selezionati e cancellati, lui sente, ha esperienza di quello che accade intorno a lui. Quello che accade intorno a lui ha a che fare con rapporti amorosi, rapporti di amicizia, dialoghi assolutamente vicini alla sua esperienza. E questo lo porta ad aumentare la sua durata, intesa come esperienza, intesa come continuità dell'essere di Joel, che non può essere ridotto ai semplici neuroni in cui è immagazzinato un ricordo. Sezionate il nervo ottico di un animale. La vibrazione partita dal punto luminoso non si trasmette più al cervello e da lì ai nervi motori. Il filo che collegava l'oggetto esterno ai meccanismi motori dell'animale, inglobando il nervo ottico, è rotto. La percezione visiva è dunque diventata impotente e in questa impotenza consiste precisamente l'incoscienza. Ci si rappresenta il corpo vivente come un impero in un impero, il sistema nervoso come un essere a parte, la cui funzione sarebbe dapprima quella di elaborare delle percezioni, in seguito di creare movimento. La verità è che il mio sistema nervoso, interposto tra gli oggetti che scuotono il mio corpo e quelli che potrei influenzare, gioca il ruolo di semplice conduttore che trasmette, distribuisce o inibisce del movimento. Si può dunque dire che il dettaglio della percezione si modella esattamente su quello dei nervi cosiddetti sensitivi, ma che la percezione nel suo insieme ha la sua vera ragion d'essere nella tendenza del corpo a muoversi. La percezione delle cose così come le stiamo esperendo in questo istante tiene in sé come compressa l'intera nostra esperienza passata e questo è un elemento irriducibile al fisicalismo, secondo Bergson. Il che non vuol dire che il fisicalismo sia sbagliato, vuol dire che il fisicalismo può prendere in considerazione soltanto un aspetto della realtà, che è quello fisico e chimico, che è reale, ma l'elemento virtuale, l'elemento che ha a che fare con la durata, la fisica non lo può spiegare. Un altro esempio di questo fatto lo troviamo nel saggio sui dati immediati della coscienza, quando Bergson ci dice che se noi stiamo sulla riva del mare a osservare l'orizzonte e in due punti distanti dell'orizzonte, ma nello stesso istante, cadono due fulmini nel mare, noi abbiamo subito due tipi di esperienza. Una è un'esperienza scientifica, la nostra mente registra in maniera separata, anche cerebralmente, il ricordo dei due distinti lampi, ma al tempo stesso noi sentiamo come esperienza un'Italia della nostra identità come un paesaggio, quell'evento a cui abbiamo assistito, ma in cui eravamo elemento integrante, è l'indiscernibilità della mia coscienza, della mia mente rispetto all'esperienza del mondo così come la sto facendo adesso. È la memoria che produce la materia. Ma non spaventatevi, non si cade qui nel misticismo, non è che la memoria, così come vuole un idealista, produce il mondo così come ne abbiamo esperienza. No, il mondo esiste, la mia memoria esiste e l'incontro che esse hanno è duplice. È un incontro fisico e chimico, corporeo, ma è un incontro che ha a che fare anche con la durata della mia coscienza, della mia esperienza e questa è indiscernibile dalla continuità che sento essere il mio io. L'esperimento della lacuna è destinato a fallire perché la cancellazione di quei neuroni cancella soltanto un piccolo aspetto della realtà dei ricordi delle persone, perché al tempo stesso non possiamo cancellare la continuità, l'unità, la durata che quelle persone portano in sé che nel momento stesso in cui fanno esperienza di qualcosa di nuovo si comprime come un istante assolutamente unitario. L'idealismo non basta perché è evidente che c'è una realtà al di fuori delle mie percezioni, ma il realismo riduzionista non basta perché è evidente che esiste una realtà della virtualità della mia immaginazione, del mio ricordo, che non è una semplice risposta passiva di registrazione, ma è anche una facoltà attiva di produzione e ciò che viene prodotto è il mio essere un'identità, una persona, un io. Ma Joel e Clementine erano destinati a stare insieme? Non lo sappiamo perché il destino sta al di fuori della nostra indagine. Ciò che sappiamo è che l'identità, gli individui, le personalità, le storie e le durate di Joel e Clementine hanno resistito all'esperimento chimico, fisico e materiale della lacuna INC e in questo modo qualcosa ha avuto persistenza. Qualcosa che forse non ha a che fare con lo spirito, qualcosa che probabilmente ha a che fare assolutamente con la materia, ma qualcosa che, come direbbe Bergson, dura nonostante tutto. Volete chiamarla anima? Volete chiamarlo spirito? Io preferisco chiamarlo durata perché non è detto che sia spirituale, divino, trascendentale. Quello che so è che nel film viene mostrato qualcosa che non ha a che fare soltanto con la fisica o con la chimica. Vi invito a non perdere la live di venerdì 10 giugno in cui, insieme al Cuso della fisica che non ti aspetti, tratteremo proprio di queste tematiche nel rapporto che c'è fra la filosofia e la meccanica quantistica alle 21 sul mio canale, non perdetevelo. E permettetemi di concludere questo video con un brano tratto dal mio romanzo I pianeti impossibili, proprio sulla persistenza della memoria. Il pianeta subernia è il luogo che da sempre ognuno di noi cerca, quello nel quale tutto ciò che accade, accadde e accadrà, si mantiene intatto. Il viandante rischia di perdersi in mezzo a quel marasma di visioni perché sono la conferma che non tutto è stato inutile. Esiste un posto lontano in cui ogni nostra azione, anche la più insignificante, viene custodita e perciò diventa fondamentale. Ci si può smarrire in cerca del primo bacio o di quell'unica volta in cui si è fatto l'amore per amore. Si rischia di soccombere in mezzo alle grandi feste dimenticate o al volto della propria madre che ti osserva appena nato. In cerca del proprio ricordo più bello si finisce per abbandonare il presente e cibarsi di tutto ciò che cresce su subernia. Si tratta del pianeta più pericoloso del cosmo perché sa quali ostaggi proporre per convincerci a rinunciare alla libertà. Se ti è piaciuto il video metti un pollice in su e iscriviti al canale ma soprattutto condividi con tutti i tuoi amici affinché nei commenti si apra una bella discussione. Dimmi che cosa ne pensi. Qui al mio fianco trovi altri video che potrebbero interessarti e mi raccomando ricordati niente panico perché non è tutto noia ciò che pensa.